In A12 ci sono due chilometri di coda per lavori tra Versilia e la deramazione Lucca-Viareggio in direzione Rosignano. In A1 fare attenzione per un veicolo in panne tra Firenze-Scandici e Firenze-Impruneta in direzione Roma. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra lo svincolo di Firenze-Impruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero chiusa una corsia per lavori tra San Giuliano e la variante di Ponte Ammoriano in entrambe le direzioni. I treni l'Intercity 584 delle 7.21 da Trieste a Roma viaggia con 23 minuti di ritardo, ferma ad Arezzo salvo recupero alle 13.23. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana-Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!